È il frutto di una ricerca approfondita, resa possibile anche dalla straordinaria collaborazione degli attuali discendenti, il libro Gubbio e Leopardi Recanati, un legame da riscoprire. Ricerca realizzata da Anna Maria Trepaoli, direttore dell'Archivio Diocesano e Biblioteca Diocesana Fonti, in collaborazione con Anna Radicchi, per Fabrizio Fabio, editore. Ricerche partite dal ritrovamento di un documento nell'Archivio Diocesano e Gubbino, una partecipazione di nascita in apparenza poco significativa, scritta da Monaldo Leopardi, indirizzata al Marchese Biscaccianti della Fonte di Gubbio. Ne è scaturita la scoperta di un fitto intreccio di relazioni familiari e amicali tra personaggi ogubini e parenti di Leopardi, in particolare con la famiglia dei Della Branca, dalla quale proviene Francesca, nonna materna di Monaldo e il padre di Giacomo. Scoperta che ha destato inevitabile curiosità ma anche soddisfazione, come ha sottolineato il sindaco di Gubbio Stirati alla presentazione del volume a Palazzo Toschi Mosca. Applauso allo straordinario lavoro dell'equip di ricercatori nelle parole del Vescovo di Gubbio Ceccobelli. All'incontro sono intervenuti Paola Monacchia, presidente della Deputazione di Storia Patria per l'Umbria, Gianluca Prosperi, docente di Storia e Filosofia, Pasquale Toscano dell'Università degli Studi di Perugia, che ha parlato in particolare della figura di Monaldo. In collegamento diretto c'era il conte Vanni Leopardi di San Leopardo, la cui collaborazione ha enormemente facilitato le operazioni di ricerca delle autrici del volume, volume che è tra l'altro ricco di immagini fotografiche realizzate per l'occasione da Mario Arcelli. Il discendente della famiglia Re Canatesa ha interloquito in diretta con il convegno Gubbino, applaudendo all'iniziativa. Non sono mancati momenti musicali e letture dei più noti componimenti del poeta marchigiano, una cura degli attori.